Musica Condizioni di leggera instabilità sulla penisola, dovuta ad un flusso in quota nord-occidentale e alla pressione al suolo ancora non perfettamente ristabilita. In Toscana, giovedì 30 settembre, sereno poco nuvoloso. Nuvoloso in appennino, in particolar modo sui versanti orientali, dove non si escludono locali piogge, venti deboli o al più moderati di grecale, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo dal pomeriggio, temperature stazionare o in lieve calo sulle zone interne, valori prossimi a quelli medi del periodo. Sul territorio provinciale, sereno o poco nuvoloso, allucche sulla piana, temperatura minima 15, massima 25 gradi. In Valle del Serchio e zone montane, minima 13, massima 24, a Via Reggio e sul litorale, minima 17, massima 24 gradi. Venerdì 1 ottobre, sereno o poco nuvoloso, temperature in lieve calo.